E i giorni siamo in Ombra! Vuoi entrare nel magico mondo dell'intrattenimento per bambini? Beh, questo è il momento giusto! Noi di Lestare Animazione stiamo cercando nuovi simpaticoni da inserire all'interno del nostro staff. Per candidarti ti basterà cliccare nel link che trovi qui sopra, qui sotto, di lato o da qualche parte. Compile il modulo e verrai incontattato entro 24 ore. Speriamo che lo capiscono, che non vi devono chiamare, mandare messaggi, email, curriculum, devono compilare il modulo. E Johnny, siamo ancora in onda! I want you! Il link dovete cliccare, non email, non messaggi, non email, non chiamate. Nel link compile il modulo e vi ricontentiamo noi. Ciao! Grazie!